Pronta la nuova squadra di governo in provincia a Salerno. Il presidente Franco Alfieri, con proprio decreto, ha nominato il suo vicepresidente e conferito le deleghe ai consiglieri provinciali proclamati eletti a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di mercoledì 20 dicembre 2023. Il team è così composto con le varie deleghe. Giovanni Guzzo, vicepresidente con delega alle politiche giovanili e corpi idrici superficiali, Francesco Morra, capogruppo del PD, cultura e valorizzazione dei beni museali, Martino Donofrio, edilizia scolastica e pubblica istruzione, Antonio Fiore, sport, innovazione tecnologica e digitalizzazione, Annarita Ferrara, governo del territorio, Luca Cerretani, agricoltura, partecipata e personale, Giovanni De Simone, ambiente e mare, Vincenzo Speranza, viabilità provinciale, Pasquale Sorrentino, turismo, Rosario Danisi, trasporti e mobilità sostenibile, Filomena Rosario, famiglia, politiche sociali e pari opportunità, Gerardo Palladino, lavori pubblici, coordinamento piano triennale OP e PNRR. La squadra di lavoro è fondamentale per costruire un reale sviluppo dei territori, sottolinea il presidente Alfieri. Da quando sono presidente di questo ente, ho considerato prioritario essere presenti ed attenti alle esigenze di tutta la nostra bellissima provincia, da nord a sud. Abbiamo costituito, prosegue Alfieri, un ottimo team operativo e insieme daremo risposte concrete, puntuali ed esaustive alle nostre comunità. Con alcuni di questi consiglieri ho già avuto modo di lavorare in grande sinergia, altri sono neoeletti e rappresentano una preziosa energia nuova per il nostro ente, che si affaccia verso un periodo molto delicato ed in evoluzione.